Allora, io adesso devo, vabbè, ero morto, devo rifarmi gli endoscheretri Questo devo fare Perché poi si risveglieranno tutti quanti Corri Madonna bucaiola Che palle Posso salvare? Oh, grazie Dio, santissimo, ce l'abbiamo fatta Ora posso aprire la parte in service Dove il cavolo sono? Qui io chiaramente non ci vado E me ne vado comunque, cioè lì, stare lì non serve a niente C'è Vanessa? Turns out there's no record of him Allora, potenziamento alimentazione, potenziamento monti, cicaroxi Nel cilindro protettivo Nel cilindro protettivo Ah, qui, ok Io devo riattaccare la testa di Freddy È un problema perché lui non è esattamente in sé Porco Giuda Era per provare Per curiosità E poi non mi ricordavo il terzo E poi non mi ricordavo il terzo Ho fatto giusto Perché mi hanno ucciso? Io non gli ho fatto niente Non mi ricordavo Non mi ricordavo Non mi ricordavo Chica normalmente lo fa per i bambini Check her green room in Rockstar Row You may find one there Use the service elevators at the back of the room They go up to Rockstar Row It looks like they are all out of order Except for Roxie's Pass Festa Trovo il Pass Festa nella sala verde di Cicla Qua siamo da Roxy Andiamo un attimo Se io vado a ricaricare Perché mi ha ucciso Quando Freddy si scarica Mi ammazza Vedete cosa intendo con questo gioco Ha problemi Ora serve il Pass 5 per entrarci Cioè ma vi rendete conto? Là c'è Vanessa Cioè non so cosa devo fare Ma non posso andarci Perché qui c'è Ennard Ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio Quando riuscirò a capire come orientarmi Alla prossima Cioè ma ri teamwork Alla prossima E poi Viare un'opente E poi La prossima Cioè ma viare un'opente E poi Sì ma viare un'opente